Manifestazione a Ballarò per dire no alla droga, per dire no al crack, ma cosa bisognerebbe fare per cambiare davvero il volto di questo quartiere che è una delle piazze di spaccio più grandi forze d'Italia? E appunto, intanto non è un problema quello della droga che non riguarda soltanto il quartiere di Ballarò, purtroppo attraversa la nostra città in lungo e in largo. Sicuramente bisognerebbe intanto non far finta che non esista, bisognerebbe prenderne atto, prenderne coscienza e ascoltare le persone che vivono in quel territorio. Ieri la città ha fatto un passo in avanti molto più grande di quello delle istituzioni, è scesa in piazza per evitare che qualcuno possa dire che questo problema non si conosce. Bisogna sicuramente dar vita immediatamente a servizi, servizi che si occupino sia della prevenzione che della presa in carico delle persone che purtroppo si imbattono nel consumo delle droghe pesanti. Ecco, dal suo punto di vista, che è un punto di vista di chi è stato sempre impegnato prima civilmente e oggi politicamente nei territori difficili, servirebbero più controlli anche da parte delle istituzioni? Io non credo che i controlli e quindi la repressione siano la soluzione, anzi penso che possano in un qualche modo, se si verificano solo quelli a cui era un conflitto sociale di cui non abbiamo bisogno. Serve invece una presenza istituzionale che non sia soltanto in chiave repressiva ma che sia anche in chiave appunto accogliente, inclusiva. Serve consentire a tutte le persone che ieri hanno dimostrato che sono in campo, che vogliono fare qualcosa, che vogliono fare la propria parte. Serve che le istituzioni agevolino attraverso sinergia, attraverso il dialogo, la possibilità che ciascuno, comprese le forze dell'ordine, ma non soltanto le forze dell'ordine, possano fare la propria parte. A partire ad esempio dai servizi sanitari, che sappiamo sono il vero lato carente, soprattutto sul tema delle droghe. Per concludere, come si è arrivati a tutto questo? Io immagino che ci sia tanto da indagare sul piano del disagio sociale e del disagio umano che abbiamo affrontato. Sicuramente la pandemia non ha aiutato. Ricordiamo che purtroppo oggi il tema del consumo delle droghe pesanti riguarda tantissimi adolescenti. ragazzi e ragazze piccolissimi che iniziano a fare uso di droghe pesanti, probabilmente anche perché durante la pandemia sono rimasti soli, sono rimasti chiusi in loro stessi. Adesso non trovano modo per venire fuori da questa solitudine e la droga è una soluzione facile, che purtroppo poi si rivela anche mortale in talunicasi. Quindi bisogna parlare con le persone, bisogna essere a fianco soprattutto di questi ragazzi e di queste ragazze e dare opportunità diverse, perché la droga non può essere l'unica cosa che li accoglie o li fa sentire ascoltati.